Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nella zona di Subiaco, sui Monti Simbrovigno, per fare una traversata da Ienne. Ci troviamo adesso a vedere alcune cose particolari e carine e interessanti della zona, come la cascata di Trevi, la grotta San Benedetto e una grotta che visiteremo. Oh, io non ci capisco un tubo qua, che è sta cosa qua? Non ci capisco un tubo qua, a passare qui, com'è? No, ma la cosa peggiore è stare merda. No, ma la cosa peggiore è stare merda. Sì, ci ha seccato? Sì. Allora, non la cosa. Allora, non la cosa. la macchinetta tua è un altro tiro se non mi sei a prendere foto non è tanto sì 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 perché qui tanto a volte il filmato rende di più sì sì grazie Viene più un po' se vede più, però... Viene una grossa, è un mani... Sì, 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 sì... Sì, 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 sì... Sì, 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 sì... Sì, 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 sì... Sì, sì, sì... Bello! Sì, 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 sì... Per 300 metri ho fermato... Però c'è almeno meno acqua... Ma c'è l'acqua però, eh? Sì, sì, no... Sì, sì, no... Sì, sì, sì... Ma si può però... Fiamo anche... Fiamo anche sperologia col jeppe, vedi? Hai visto la roba, eh? Visto che non ci riesco più a andare... ... 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